Le aziende ospedaliere del Nord Italia non rilasciano in nulla osta per la mobilità degli infermieri. Una nuova tegola sull'emergenza personale si registra nelle aziende sanitarie campane e si ripercuote sugli ospedali, in particolare sull'Umberto I di Nocera Inferiore. Le ASL settentrionali guardano i trasferimenti come ad una emoragia che rischia di lasciarli senza coperture. A peggiorare le cose e anche le aspettative per la quota 100 che porterebbe centinaia di persone alla pensione. Insomma al Nord temono di trovarsi scoperti, costretti a bandire concorsi d'emergenza. Una gatta da pelare che vorrebbero scongiurare e per questo malvolentieri quando lo rilasciano concedono il via libera alla mobilità. Conseguenza di ciò è che in Viale San Francesco, come in tutti gli ospedali dell'ASL Salerno, le unità supplementari arrivano centellinate. Nei giorni scorsi hanno preso servizio due infermieri in nefrologia dove si è rischiato seriamente di bloccare le attività, ma la situazione è critica in quasi tutte le divisioni specialistiche nocerine, eppure a Pagani. La nuova medicina, per esempio, in Viale San Francesco è chiusa. Inaugurata in Pompamagna da Vincenzo De Luca, non può essere aperta perché il personale non è sufficiente a garantire la messa a regime dei 28 posti letto previsti. La direzione sanitaria nocerina ha chiesto tanta unità. A Vianizza, a Salerno, ne hanno garantite 30, ma ad oggi si è molto al di sotto delle aspettative. Il tema sarà al centro del tavolo chiesto da USB, Nursin, UGL, FIALS, FSI e SNALV al commissario straordinario dell'azienda sanitaria salernitana. Un vertice monotematico urgente che Mario Iervolino ha accordato per il 13 novembre prossimo negli uffici della direzione generale di Vianizza, a Salerno.